Freddato all'interno della sua Fiat Punto mentre stava andando a lavorare all'alba, affiancato a quanto pare da due killer scesi da un'auto di grossa cilindrata che hanno fatto fuoco e poi sono fuggiti senza lasciare tracce. È morto così Giuseppe Valerio, 59 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, inutile ogni tentativo di ranimarlo da parte dei soccorritori. Luogo della tragedia la centralissima via Roma, San Ferdinando di Puglia, l'uomo che aveva un'azienda agricola era il fratello di Biagio della famiglia dei Vardarella, ucciso il 28 gennaio del 2008 all'interno di un circolo privato di via Cialdini, proprio alle spalle della piazza centrale di San Ferdinando di Puglia. Entrambi furono coinvolti nell'operazione Cinara che alcuni anni fa smantellò un'organizzazione dedita alla truffa con i fondi della legge 488. Da tempo riferiscono fonti investigative Giuseppe Valerio sembrava defilato, un comportamento irreprensibile, era diventato testimone di Geova, proprietario di uno dei più grossi magazzini di prodotti ortofrutticoli della zona, aveva acquistato all'asta l'azienda di Carlo Garofalo, ucciso il 22 aprile del 2007 da Nunzio Arnese, reo confesso di quel delitto maturato per questioni di natura economica. I carabinieri coordinati dal magistrato della direzione distrettuale antimafia Isabella a Ginefra non escudono alcuna pista ma si concentrano maggiormente su quella legata all'attività imprenditoriale. In queste ore stanno ascoltando diverse persone e visionando i filmati delle telecamere della zona. Anche con l'ausilio del nucleo investigazioni scientifiche sul cadavere dell'uomo è stata disposta l'autopsia.